Quando arrivo mettono sempre la canzone, notti magiche, quindi i ricordi vanno sempre in quel periodo stupendo, straordinario. Una notizia che non avremmo mai voluto commentare. Ci lascia oggi, a soli 59 anni, il grande Totò Schillaci, protagonista del mondiale 1990, quello delle notti magiche. Purtroppo da tempo lottava contro un tumore, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni e questa mattina la tragica notizia giunta dal civico di Palermo, dove era ricoverato da tempo. Totò, nato a Palermo, è esploso con la maglia del Messina negli anni Ottanta, trascinando i giallorossi dalla Serie C2 fino alla Serie B, sotto la guida del professore Scoglio e di Zeman. Nella stagione 88-89 fu il capo cannoniere della Serie B con ben 23 reti. L'exploat in Sicilia gli è valsa al tempo la chiamata della Juventus, con cui giocò dal 1989 fino al 1992, vincendo una Coppa Italia e una Coppa UEFA, prima di passare all'Inter e poi finire la carriera in Giappone. Fu il primo italiano a militare nel campionato del sollevante. Ma Totò è ricordato principalmente per Italia 90, in cui fu il capo cannoniere degli Azzurri, con sei reti in quello storico mondiale. Chiamato un po' a sorpresa da Zeglio Vicini, ha iniziato il suo mondiale come riserva, ma fu subito protagonista già dalla prima partita. Un suo gol sbloccò la gara contro l'Austria, poi in rete contro Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda e nella storica semifinale contro l'Argentina. Il vantaggio di Totò, vanificato purtroppo dalla rete di Cannigia, è la seguente sconfitta ai rigori contro la squadra di Diego Armando Maradona. Poi il gol nella finale, terzo quarto posto contro l'Inghilterra. Con i suoi occhi spiritati, Totò rappresentava al meglio l'anima degli italiani e soprattutto di noi siciliani. Quella voglia di riscatto di colui che, partito dal basso, era arrivato fino alla vetta più alta. Mancherai a tutti, caro Totò.